Buongiorno 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 Ciao a tutti ragazzi Benvenuti in questo nuovo video Come vedete e avete letto dal titolo Siamo in una nuova on gym Questa volta non è solo diciamo mia Ma è anche in collaborazione con Emanuele Vi abbiamo fatto vedere un po' tutto diciamo, adesso ve lo facciamo vedere ancora meglio nel dettaglio, non so nelle immagini che avete visto scorrere, partiamo subito dalla radio che già conoscete, nel senso che il mio non è proprio lui, anche Emanuele nella pandemia è riuscito a caparrarsene uno, quindi il solito della Decathlon, che come sapete io mi sono trovato sempre molto molto bene, lui avendo visto com'era è riuscito a comprarselo e adesso uno dei due l'abbiamo portato in questa nuova Ungym, come vedete, classico rack, barre, barra per la rack, questa ce l'avete sempre già quando comprate il rack, adesso anzi ragazzi so che è tornato disponibile in parecchi Decathlon, se vi interessa sapete che adesso qualcosa si riesce ancora a trovare, oltre a questo abbiamo acquistato un nuovo bilanciere e due nuovi dischi, adesso Emanuele vi farà vedere, avete già capito di cosa si tratta, ma adesso vi fa vedere bene cosa vi ha comprato. Allora, per non farci mancare nulla abbiamo preso attrezzatura a 3, di qualità, quindi abbiamo puntato sulla Certodus, marca italiana, quindi solida, bella potente, abbiamo 150 kg di dischi, che adesso diventeranno, no di più, siamo arrivati a 200 kg, 200 kg di dischi elettifico, barra olimpionica da 220, classico da 20 kg, con una portata massima di 320 kg, quindi voglio dire, ne abbiamo e avanziamo, noi ne avanzano parecchi. Abbiamo preso una panca, ve la faccio vedere nel dettaglio. Questa ragazzi l'abbiamo già provata, anche te mi sembra che si è trovato alla grande, mi sembra che qua siamo sui 260 kg di portata, prezzo spettacolare da Amazon, magari dirà il free link, perché l'abbiamo presa in offerta, quindi non so se trovate l'offerta ancora, a 60 euro, 59 euro, ha anche la barra centrale, quindi ancora più stabile ad esempio di quella che ho nell'altra Un Gym, perché l'altra Un Gym tra l'altro c'è ancora, e con questa barra qua ragazzi è un pezzo unico, morbida, nel senso che non è un pezzo di legno, ha l'impostitura ma bella dura, quindi non sprofondate. Ragazzi, posso solo consigliarvela Amazon. Poi, cosa abbiamo comprato di altro Manu? Allora, per non farci mancare nulla abbiamo iniziato con un set di manubri esagonali, andando avanti di 2,5 kg l'uno, quindi partiamo dai 5 e arriviamo ai 17,5 kg. Al momento abbiamo trovato questi, poi probabilmente incrementeremo, ma comunque come vedete lì, cosa abbiamo fatto? Poi abbiamo preso due manubri con pony in Bleedle di Decathlon, abbiamo comprato i dischi da 5 e li abbiamo aumentati con i dischi da 2 kg, in modo tale da avere i 20 kg, 22, 25 che ci mancavano. E qua abbiamo anche quelli da 10, sempre di Decathlon. Abbiamo anche qualche chilo Freedom che ci può sempre servire per fare le nostre cose. Sì, qualcosa di extra, dice tutto un chilo, mezzo chilo, una kettlebell e tutto è appoggiato sopra. Hai i tappetini di gomma fit, codice scondo. E qua mettiamo quello così aiutiamo i nostri amici per essere affamati, PA5. Gomma fit ragazzi, guardate che ne vale veramente la pena. Sono stati funzionali, ci stacchi, ci fai di tutto, lasci cadere il peso, veramente spettacolare. Un tappetino da 2 cm, abbiamo preso 12 mattonelle. Esatto. Per adesso teniamo questa forza qua di metri quadri, poi vediamo nel caso di espanderci, ma per il momento direi. E qua cosa abbiamo? Qua abbiamo potentissimo T-Bar, ancorato al muro, sbara di Decathlon e poi... Direi più che sufficiente per fare il T-Bar. Adattatore e poi qua inseriamo i rischi della Lacer Todus. E oltre quello, volendo, qua all'inizio, se inserite prima i 28 di Decathlon, poi dopo potete inserirci anche i 50 di Lacer Todus, ad esempio, quindi alla grande. Poi proseguiamo il tour. Allora, qua abbiamo preso una panca della Marbo e il modello quello successivo. Sì, successivo a quello che vedete di solito nella Miam Gym. Vi lasciamo anche il link anche di lei, così vi potete fare anche le gambe. Leggermente, diciamo, è lo step successivo, ma sono simili, come va. Sì, sì. Questa è un po' più rifinita, ecco, un po' biellina da vedere. Soprattutto, devo dire, la Leg Extension Leg Carl. È molto... è migliore di quelle che ho io, ecco. Esattamente. Leg Extension Leg Carl, regolabile. Basta questa, semplicissima, però secondo me in un gym in cui, come qua c'è l'essenziale, anche fare femorali e quadricipidi in questa maniera, non è male. Bilanciere EZ, per i nostri amici bicipiti. Esatto. Un'altra panchettina di supporto, sempre Marbo, tra l'altro anche lei. Sì. E se bisogna fare il benedetto cardio per scaldarsi... Abbiamo una cicletta che quella non manca mai. Tutto questo, stavolta, l'abbiamo poggiato... Sul nostro tappetino sintetico. Erba sintetica. Direi che è sufficiente per svolgere la leg e tutto il resto. Qua non devi buttar giù chissà che pesi. E poi, qua sopra... Qua abbiamo il... il creme della creme. E adesso ci sediamo con calma e vi spieghiamo il tutto. Allora, ragazzi, la novità non finisce qui, perché dopo tanto tempo abbiamo deciso di iniziare anche noi il nostro coccino online. Quindi siamo in due, non da solo. Non solo io, non solo lui. Potevamo anche iniziare prima, sono sincero. Qualche richiesta a me anche solamente mi era arrivata, sempre in direct su Instagram. Non ho mai voluto farlo, perché non ci sentivamo pronti. Adesso direi che è arrivato il momento. E lo testimonia principalmente i due diplomi di personale trainer vista che vedete qua sopra di noi, tra cui quello di Emanuele. È datato due anni prima del mio. Lui nel 2019 l'aveva già preso. Io, come vi ho fatto vedere già qualche video fa in quest'anno, 2021. Quindi siamo certificati personal trainer e appunto iniziamo anche noi il nostro coaching online. Vi lasciamo sotto l'indirizzo dove scriverci, la pagina Instagram e tutto quanto. E adesso vi spieghiamo un po' che ovviamente non è finito qua. Ci stiamo ancora, oltre questo, ci stiamo informando anche su altri libri di testo. Stiamo studiando altro. In più Emanuele ha avuto già, nell'ultimo anno, ha già aiutato tante persone a cambiare. Aveva già iniziato un mini percorso per i fatti suoi. E lui stesso, nonostante tutto, ancora non avesse avuto il diploma. Quanti anni fa ormai hai fatto la gara? Eh, lontano 2017. Ha fatto una gara di bodybuilding che, adesso vi spiegherà, negli ultimi mesi, a causa di qualche screzzo col suo allenatore, si è trovato praticamente da solo. Purtroppo sì, mi sono dovuto arrangiare con quello che sapevo all'epoca. Studiando, applicando, mi sono riuscito a fare questa sorta di programmazione, arrivare alla gara. C'è dieta che è allenamento. Sì, sì. Che la fase finale, come ben sapete, è forse la più delicata di una preparazione, peraltro. Sì, quindi. E lui è rimasto proprio in quel momento, senza nessuno. Questo perché aveva già comunque letto, fatto. Cioè, per farvi capire che noi potevamo iniziare molto prima a fare questa cosa, ma sia io che lui. Io da quando ho iniziato nel 2015 a decidere di cambiare, non è che stavo qui a farvelo, a dirvelo a voi. Ragazzi, mi sono studiato questo testo, mi sono letto questa cosa scientifica. No, e lui ha fatto la stessa cosa. Negli anni abbiamo letto, fatto tanto. Certo, quello che ci certifica è ISSA, per carità. Però, questo vi fa capire che negli anni, comunque, non è che abbiamo iniziato l'altro ieri a leggerci due articoli. Allora, sì, dai, facciamo anche noi il coach. Questo vi vogliamo far capire, ecco. Ogni cosa che vedrete l'abbiamo prima attestata su di noi. Ci siamo parlati praticamente negli ultimi due anni, quando ci siamo visti, ogni settimana parlavamo di questa cosa qua, di fare questa, diciamo, un gym. Infatti, per chi fosse interessato e si trova vicino a noi, quindi si parla di Torino, ovviamente, potete anche venire qua a fare qualche allenamento, quindi seduta in sede, per così dire. Quindi, ovvio, per chi è lontano, rimarrà sempre solo online. Però, se dovessero essere possibile venire, noi ci siamo anche qua fisicamente, ecco. Per questo abbiamo fatto anche un posto insieme. O ci scrivete una mail, oppure ci mandate un messaggio sulla pagina Instagram. Intanto, appunto, vedete tutto qua sotto al video, in descrizione. Tutte le informazioni ve le daremo, appunto, via mail o tramite direct della pagina Instagram. Esattamente. Basta, ragazzi, noi, appunto, abbiamo iniziato definitivamente con questo video, si può dire. Come avete visto, l'essenziale, come sempre, che riteniamo essenziale. Questo non è detto che, ovviamente, qualcos'altro magari lo acquisteremo, però, come avete sempre visto anche nel mio canale, io ho iniziato con una panca di due manubri e mi sembra che già dei risultati li avevo portati, quindi, quando hai un'attrezzatura del genere, puoi anche andare oltre. Infatti, ragazzi, chiunque voglia informarsi di come funziona, non preoccupatevi se avete pochi attrezzi, giusto? Quindi non solo chi va in palestra, anzi. Faccio vedere anche delle foto di dove mi sono allenato nell'ultimo periodo a casa, avevo il rack in camera e ci passavo appello della zia Bernarda, veramente. Rack, panca, non questa, bella così, tra l'altro, è un bilanciere. Basta, 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 basta. E nonostante questo, già come detto prima, anche qualche persona è riuscita a farla migliorare. Sì. In piena pandemia, con tutti i crisi del caso, quindi. Sì, sì, sì. Ragazzi, ci lasciamo tutto sotto, link, Instagram e tutto quanto. Ci vediamo al prossimo video. Ovviamente, tanti video adesso vi vedrete qua in questa Ugym. Vi ringraziamo intanto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!